Senna è il titolo della nuova serie tv che uscirà su Netflix il 29 novembre. Serie dedicata al grandissimo campione di Formula 1, interpretato dall'attore Gabriel Leone. La serie è composta da sei episodi che andranno a ripercorrere la carriera e la vita privata di questo grandissimo campione che tutti noi abbiamo amato. Ti invito a scrivere nei commenti se hai in programma di vedere questa nuova serie tv che ormai uscirà a breve, manca veramente poco. Ti invito anche a scriverti al mio canale YouTube per rimanere aggiornato sui prossimi video in uscita. E noi a questo punto ci vediamo al più presto assolutamente con un nuovo contenuto. Ciao!